Tutti ricordiamo le favole della buonanotte della nostra infanzia. Cenerentola che calza la scarpetta, il ranocchio che si trasforma in principe, la bella addormentata che si risveglia con un bacio. C'era una volta e vissero per sempre felici e contenti. Favole, la sostanza dei sogni. Il problema è che le favole non diventano realtà. Sono le altre storie, quelle che iniziano con Era una notte buia e tempestosa e finiscono in modo terribile. Sono gli incubi che sembrano sempre diventare realtà.